Terzo appuntamento con l'incontro oramai che è diventata una costante per l'ordine dei medici della provincia di Barletta Andiatrani, un incontro per parlare di salute, un incontro per parlare di cura della persona, per parlare soprattutto di prevenzione, perché riteniamo che la prevenzione sia l'attività che meglio caratterizza e nobilita l'azione del medico. Terzo incontro per parlare di cura della persona con tutti coloro che si occupano della persona, per parlare con nutrizionisti, con biologi, con medici, con fisioterapisti, con insegnanti, con psicologi, nell'ambito di una collaborazione che oramai è la condizione sine qua non per prendersi cura delle persone. Per tutti questi motivi ritengo che la partecipazione a questo convegno sia importantissima per mandare un messaggio, non soltanto al mondo scientifico, un messaggio che ribadisca il concetto della prevenzione primaria come elemento fondamentale per garantire la salute di tutti i cittadini.